Anticipazioni tempesta d'amore. Venerdì 13 dicembre 2019. A Tina non piace l'idea del doppio matrimonio. Inoltre vorrebbe sposarsi a Biclaim, ma Ragnar deve tornare subito in Islanda. L'uomo vorrebbe soddisfare il suo desiderio e si impegna a farlo. Dopo che Natasha ha rifiutato il ruolo, viene espulsa dalla sua nuova agenzia. Nervosa la cantante sfoga tutta la sua frustrazione su Valentina e Fabien, ai quali poi chiede scusa. Eva scopre di essere stata manipolata perfidamente da Christophe. Nervosa lo affronta e si augura di riconciliarsi quanto prima con Robert. Nel frattempo Denise è devastata dai sensi di colpa in quanto sa di aver tradito Christophe. Decide così di raggiungerlo, ma l'uomo non vuole sapere di ostacolare le sue parole. Annabelle consiglia a Jessica di distruggere, con un piano, il rapporto tra Romy e Paul. All'inizio Jessica non vuole, ma poi si rende conto che Bella è innamorato di Romy e che può vendicarsi della rivale usando il nuovo arrivato. Senza ulteriori indugi decide di aiutare Bella a farsi bello per fare breccia nel cuore della Erlinger.